ci sta visto che c'è una vipa, maledetto oh beh siamo noi what the fuck dove sta il veleno dove sta il veleno gli posso cantare una canzone al massimo esattamente bene ok ok prepariamoci a morire più e più volte ragazzi cerco di capire un attimo non c'ho neanche tutti sti drive poi non so che cosa succede dopo male mazza non gli fa niente non c'è un'altra non c'è un'altra non c'è un'altra molto permissivo almeno che questo non è il primo serio assolutamente sì non è punitivo questa non me l'aspettavo eccola ecco questo sono un giro di merda due frecce ce l'ho non so i prossimi fungilioni come li pio ma guarda tanto cazzo è uscito il veleno raga ma maledetto un fame nooo ultima posta no l'ho spregato ok gari go cooldown yes figo belle animazioni mi piacciono un casino mi piacciono veramente un casino guarda ah no ma ha dato proprio un petalo non un fiore non un petalo bomba non giochiamo che succede una piuma una piuma un colpo per fermare la caduta prima di raggiungere il suolo nooo te gode ciao ciao Al prossimo episodio